Allora Omar, ovazione quando sei entrato in campo, subito due primi tempi a terra, bella soddisfazione questi primi punti, bisogna che porti le paste, questi primi punti in Champions. Eh sì, mi tocca, è stata l'emozione unica, esordire in Champions ovviamente è la prima volta per me, sono contentissimo che mi abbia dato la possibilità di rientrare, sono contento anche di aver fatto due punti su due, quindi sono felicissimo. Senti, partita che non valeva niente ma affrontata con lo spirito veramente giusto da parte di tutta la squadra. Sì, avevamo voglia di dimostrare anche noi in seconde linee di saper stare in campo e l'hanno dimostrato, sono stati bravissimi tutti dal primo all'ultimo e sono contento che siamo riusciti a portare a casa la vittoria, anche perché così continua la nostra striscia positiva. E adesso il gioco si fa duro, come si dice, no? Chiudiamo con quello che sarà nel prossimo fine settimana, la grande Kermess di Bologna con la Final Four di Coppa Italia. Esatto, adesso la testa ovviamente è su quelle partite lì perché sono ovviamente importantissime, ma siamo già molto concentrati, siamo già molto concentrati a affrontarla, ecco. Grazie, grazie Omar. Grazie a tutti.